All'Istituto di Nanotecnologie del CNR di Rende, uno team di fisici e chimici lavora per riprodurre in laboratorio un adesivo potente e resistente all'acqua come quello prodotto dalle cozze. Una scoperta sensazionale dai mille utilizzi come ci racconta Maria Vittoria Morano. Diverse decine di cozze verdi asiati che sono state sacrificate per produrre questo campione di materiale purificato che contiene le proteine adesive delle cozze. Attaccata come una cozza allo scoglio, da classico modo di dire ad oggetto di importanti ricerche scientifiche. Siamo nei laboratori dell'Istituto di Nanotecnologia della CNR di Rende ed è qui che in collaborazione con le Università della Calabria e di Singapore, fisici e chimici insieme esaminando la bava delle cozze sono arrivati a fare una scoperta sensazionale. Il segreto della potenza adesiva della colla prodotta da questi molluschi sta tutto nelle sue proteine, proteine asciugatrici in grado cioè di rendere colla efficace anche in presenza di molecole d'acqua. Scoperto ciò il passo successivo è produrre delle cozze biomimetiche ispirate alle proteine dei mitili e soprattutto produrle in quantità che non siano minuscole come in questa provetta. Innumerevoli le possibili applicazioni, in campo medico la supercola potrà servire a ricucire le ferite senza bisogno di punti di sutura, ricostruire tessuti danneggiati, riparare di stacchi di retina o ossarotte, il tutto senza temere le molecole dell'acqua, quelle contenute nei liquidi biologici. Più parlo con i medici più mi rendo conto che c'è un grande bisogno di questo tipo di materiali. Nel frattempo la ricerca, se il progetto sarà approvato, verrà estesa alla Pina Nobilis, una cozza gigante che in Calabria popola i fondali della secca di Amendolara sullo Ionio. Per l'ottenimento della supercola invece è difficile stabilire i tempi, specie se ogni giorno, ahimè, i nostri scienziati devono fare i conti con fondi per la ricerca, sempre più risicati.